Nella Lucchesia chiedono, a parte gli eventi culturali che ci sono, a cominciare dal Pucciniano, ma poi fare escursioni nel quello che è l'eccellenza delle produzioni del territorio, a cominciare dalle società agricole, l'enogastronomia e poi anche per quello che è lo sport, le attività sportive che ci possono essere sul territorio. Noi abbiamo un servizio 24 ore su 24, la formazione dei nostri dipendenti è sempre aggiornata, non solo per quanto riguarda la sicurezza e la qualità, ma anche per quanto riguarda la preparazione nel descrivere il nostro territorio e soprattutto sapere le lingue, cioè non solo l'inglese, perché noi abbiamo a che fare anche con clienti spagnoli, soprattutto poi l'equipaggio, quello che loro hanno, gli ormeggiatori devono dialogare con il comandante e l'equipaggio per quanto ritiene le regole di quello che sono all'interno del nostro approdo. Grazie.